Prosegue davanti la città della regionale a Catanzaro la protesta degli ex tirocinanti MIC della Regione Calabria che per il terzo giorno consecutivo hanno deciso di portare avanti il presidio permanente davanti gli uffici dell'ente supportati dall'Unione Sindacale di Base. Quello che chiedono è un incontro con il Presidente Occhiuto per far sentire la loro voce. È una vota che parte dal 2016 e alla fine grazie al Presidente Occhiuto perché noi non è che siamo qua per accusare oppure protestare contro il Presidente. Si era impegnato quando era in Parlamento a farci in sintesi, crearci questo concorso per 1956 tirocinanti calabresi che comprendono i tre ministeri MIC, MIUR e MIBAC, cioè i tirocinanti di questi tre ministeri. Quindi questo concorso per il 50% di noi è andato male ma no perché non avevamo studiato perché non eravamo stati messi nelle condizioni di poter studiare e poter svolgere la prova in maniera tranquilla come comunque doveva essere. Chiediamo che oggi il Presidente ci incontra anche in virtù del fatto che sono stati presentati due emantamenti, uno ad aprile e uno a maggio. C'era stato garantito che con questi emantamenti si rifaceva il concorso per quelli che eravamo rimasti fuori perché ci sono rimasti mille posti vacanti e ad oggi questi emantamenti uno è stato respinto e un altro è stato dichiarato improponibile. Noi siamo tirocinanti MIC e giustizia, quindi nei beni culturali e negli uffici giudiziari.